Ciao amici sono Raffaele Fiume, vi aspetto il 2 maggio 2020 per il più grande evento Italo Disco, della storia dell'Italo Disco, un'organizzazione mondiale King Fashion Team King Fashion Team di Città del Messico e insieme a me tutti i più grandi interpreti dell'Italo Disco di ogni tempo, vi aspetto amici il 2 maggio a Bergamo, a Bergamo, a Bergamo, ciao! Ciao amici! I say, hello Levi, oh baby, I walk for New York